Visto che il percorso originario non può essere messo in atto, cioè quello di farli passare sulla strada Parco, noi vogliamo che sia reintegrato quell'esperimento che è andato bene, che è avuto successo negli anni passati, cioè il trasporto pubblico notturno e serale, collegando ogni zona della città anche in luoghi di maggior frequentazione, quindi la riviera, visto che parliamo dell'estate, Piazza Muzzi, Centro Storico. Cinque anni fa introducemmo questo servizio e andò bene. Nella massima sicurezza ragazzi e ragazze hanno frequentato le zone della nostra città pagando il biglietto, tu hai fatto un report in cui erano entusiasti dell'andamento di questo servizio, non è giusto interrompere, abbiamo questa occasione con questi cinque mezzi elettrici, sfruttiamola per migliorare la vita della città, anche perché al parcheggio a pagamento va creata un'alternativa, altrimenti sembra una punizione, l'alternativa è lasci il tuo mezzo a casa e prendi il bus notturno. Diaco, tra l'altro parliamo di servizio notturno, nel periodo estivo molti giovani probabilmente con la macchina rischierebbero dopo aver bevuto qualcosa durante qualche festa, qualche cena e dunque l'utilizzo del mezzo pubblico sarebbe una sicurezza ulteriore? Assolutamente sì, tutti sappiamo che dopo un ristorante, un locale eccetera, nessuno ha voglia di mettersi al volante dopo aver bevuto qualcosa, è una cosa che dobbiamo assolutamente disinnescare, quindi il bus notturno permette a chiunque di poter tornare a casa nella massima sicurezza e tranquillità anche dopo una serata al ristorante o a un locale.